Trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avitatori, frese, set completi di punte, dischi da taglio e molti altri utensili professionali. A ritrovare le attrezzature da cantiere rubate presumibilmente dai furgoni parcheggiati in un piazzale di un hotel di ponte San Giovanni nel Perugino sono stati i carabinieri della compagnia di San Sepolcro. I militari hanno scovato gli autori del furto a bordo di un'auto. Si tratta di due cittadini italiani con precedenti penali, uno dei quali già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e che adesso è stato arrestato in flagranza e denunciato a Pede Libero assieme all'altro complice per il furto. Il valore commerciale delle attrezzature rubate è stimato sul mercato in alcune migliaia di euro, senza contare le perdite per i ritardi dei lavori da eseguire che avrebbero portato in forte sofferenza economica le due ditte vittime del colpo. Gli inquirenti non escludono che le attrezzature rubate potessero essere utilizzate anche per colpire altre abitazioni dell'aretino, specialmente nel periodo estivo.